Fisiodinamic, la via del successo. L'orario di apertura del club è alle 9.30 di ogni mattino, incluso il sabato, e la chiusura avviene dal lunedì al venerdì alle 22, il sabato alle 18.30. Le attività iniziano ogni giorno con le palestre di cardio fitness bodybuilding e di vari corsi di ginnastica. Dalle 9.30 l'accesso è libero, senza limiti di orario e di frequenza. Ciò tuttavia con la sicurezza di trovare sempre istruttori diplomati ISEF altamente qualificati, che ci impostano e seguono durante lo svolgimento del programma personalizzato che ci è stato assegnato. Anche in piscina è possibile accedere liberamente dalle 9.30 in poi, oppure iscriversi ad uno dei tanti corsi di nuoto o aquagym organizzati dal club. Oltre al nuoto, disponiamo di corsi di karate, yoga, aerobica, step, ginnastica moderna e preparatoria a tutti gli sport. I nostri soci possono usufruire di ampi spogliatoi con docce armadietti, saune finlandesi e bagno turco. Visita medica in sede e dietologo. Il club Fisiodinamic è a Milano, in via Achille Maiocchi 8-SCA Telefono 02-2013-59 Info at Fisiodinamic.it Info at Fisiodinamic.it Grazie a tutti.